Si attende la decisione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito alla questione clima. I tempi in cui si poteva fare affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo e quanto ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo che aveva definito insoddisfacente l'esito del G7 italiano a Taormina. Intanto, qualche passo in avanti, è stato provato sul commercio, ma poco per quanto riguarda la questione dei migranti. Tutti Uniti invece nella lotta contro il terrorismo, ma è bastata la netta controietà della Merkel a scatenare in questi due giorni una querella a distanza e anche ravvicinata con il TICON americano che adesso tornato negli Stati Uniti dovrà far ponte alla intricata vicenda delle Russia Gate. L'FBI vuole sentire il genero di Trump, lo stesso Presidente degli Stati Uniti ha detto di porre in lui totale riduccia. Grazie. Grazie.